Scettina Di Pietro, la grande vincitrice di questo duello a distanza con i tuoi candidati, concorrenti alla candidatura a sindaco. Sei risultata la prima con un gap di circa 5% nei confronti di Niki Pasi, quindi il ballottaggio sarà fra 15 giorni fra te e Niki Pasi. Soddisfatta di questo andamento del voto o ti aspettavi qualcosa di diverso? Sicuramente soddisfatta, almeno aspettiamo i risultati definitivi, qualsiasi sia lo stacco è una grossa soddisfazione. Di arrivare al ballottaggio avevo cominciato a crederci già nei giorni scorsi ma addirittura essere la prima è una grande soddisfazione. Da due anni lavoravi fra la gente e per la gente spiegando il programma che poi è stato elaborato insieme ai cittadini? Sì, da due anni abbiamo, io personalmente il meetup esisteva già nel 2012 a partire dalle regionali. Io allora ero in maternità, ho iniziato di fatto nel gennaio del 2013. Da allora abbiamo raccolto tutte le stanze dei cittadini, abbiamo fatto ogni settimana riunioni pubbliche, tutte le settimane nel gazebo. Quindi c'è stato sempre un contatto diretto con la gente ed è una cosa bella già da singola attivista cercare di risolvere i problemi delle persone e in alcuni casi riuscirci nonostante tutto. Quindi immagini che cosa si può fare quando invece si è nelle condizioni di poter governare una città anche se c'è tanto da fare. Adesso ci sono 15 giorni in cui si decideranno le sorti di questa città, 15 giorni in cui ovviamente ognuno dei due candidati cercherete di fare il possibile per raggiungere questo obiettivo. L'importante è che si faccia solo il possibile. C'è stato un netto calo di affluenza alle urne rispetto alla passata votazione per le amministrative, circa il 5% e passa. Sì, lo prendo in questo momento. Fino a ieri credo che i dati fossero una sorta di ex equo, anzi all'inizio non ho partiti. Guardi, io ritengo che sia stata anche una scelta un po' infelice di fare le elezioni nel ponte per una piccola percentuale. L'altro una grossa percentuale di sfiducia del cittadino. La nostra intenzione è proprio fare prese invece su quelle persone che non credono nella politica tradizionale e che finalmente capiscono che noi siamo la differenza rispetto al vecchio. Infatti, in che cosa siete diversi in sintesi? Non siamo politici, non ci vogliamo arricchire, viviamo di una vita nostra e non facciamo più di due mandati, quindi ognuno tornerà alla propria vita. Non siamo disposti a scendere a compromessi, già penso che questi siano due o tre elementi che diciamo fanno la differenza. In vista del ballottaggio, come sempre, come fa il Movimento 5 Stelle abitualmente in tutta Italia, rifiuterete l'appoggio di qualsiasi altro lista oppure partito? Allora, rifiutare l'appoggio non è proprio corretto. Noi non dichiareremo apparentamenti perché il Movimento non fa apparentamenti con nessuno. Però se ci sono delle intenzioni di voto da parte di altri candidati che liberamente ci vogliono supportare, anche perché arrivati là dentro si deve lavorare insieme comunque per dei progetti importanti. Quindi l'ostruzionismo non porta da nessuna parte. Le idee sono quelle che contano.